Ciao a tutti, come vi avevo promesso porto la rubrica Random Moosters Oggi è più un Random Moosters Team Dopo i due team di disfattore perfettiva porto questo Che ho trovato 7,90€ in edicola Contiene due pacchi da tre carte L'uno random e quattro bustine random C'è quattro bustine variant E due buste, cioè i due pacchetti con le carte Trovate in edicola, dove si fanno a volte Oddio c'è una Cosmoblazer Stima Bala che ha fatto sto robo E sapete quei robi che arrivano con il cellophane Che ho già tolto Che li fanno loro praticamente Ecco qua ci sono due pacchi di carte Come cosa l'abbiamo Allora Un Return of the 2 list in inglese Una Fiammata Cosmica in italiano E due Albete che in italiano Che lusso Ma andiamo prima a vedere le carte Proprio scarse Urf, Shavala X Verme, Barses E verme, cosa qua Wow Mi aspettavo qualcosa di più di più Le posso dare Poi Oh, anche qua si sono spaccati Jurak Galim Jurak Kiganan E neosfiammata Ero elementare Common 5 super una common Che lusso Ovviamente le posso dare tutte Siamo invece i pack Che è la roba Cioè a 7 ore 90 4 pacchetti Ho detto che siano anche Battle pack Come li fanno con lo stesso Vabbè da notare I battle pack Sono di seconda E anche la redo English edition Disse comincia Allora Direi di fare Fiammata cosmica Battle pack Battle pack No Fiammata cosmica Battle pack Redo battle pack Ok Iniziamo subito Allo sbustaggio Allora Iniziamo a una fiammata cosmica Un brocchetto Di italiano Di prima emozione Diamo Diremmo nel contrario Così Avanzamento Vabbè Questo 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 Rara C'è la foglia La mettiamo Non sembra di no Chi se ne Rara sta qua Chi lo cao Questo Questo E Bene Sono così Maracchettini Eri Vado A dare il tindore E' una rara Adesso sta qua Un battle pack Di secondizio No Allora La rara E star foil Un chier a piedi ambizioso Posso dare entrambe Una radu In inglese In inglese Ok Tengo le buste inglese per collezione Per questo Ho cose semplici Ho fatto bene Davvero Ho fatto bene Davvero Davvero Gherjarsenal Oh C'è una ultimate C'è una ultimate Attenzione C'è una ultimate E' una ultimate Un altro Robottone Il secondo Uno mi era già arrivato da Holycure Un altro Robottone Vabbè Non lo do perché Lo rifiore I bimbi Che ci sono qua Eh A me è tutto andato bene Dai una ultimate Ultimo battle pack Speriamo In qualcosa di decente Rara star foil Stesso le cobro Ma ci puoi andare Rara 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 star foil Adesso Rara Come vedete La carta Sono in inglese Quale dire Io non sto Trofando nessuno George Orson E Superdimensional Robot Galaxy Destroyer Bella Spero che questo video Vi sia piaciuto E A domani Sembra con la rubrica Rambon Boosters